Cari concittadini, buon pomeriggio. Da domani, domenica 25 aprile, comincerà a Pescara la settimana dell'AstraZeneca. La Regione ha messo a disposizione 3.500 dossi di vaccino AstraZeneca che saranno distribuite per tutta la prossima settimana. Per effettuare la vaccinazione bisogna essere residenti a Pescara o in provincia di Pescara e bisogna aver compiuto 60 anni di età. La vaccinazione potrà essere effettuata prenotandosi sul sito del Comune di Pescara nella piattaforma già utilizzata per le vaccinazioni dei fragili e per lo screening di massa che sarà attiva dalle 18 di oggi pomeriggio. La vaccinazione si svolgerà come sempre al Palafiere di Via Terina.